Salve a tutti, sono Bohman ed eccoci di nuovo insieme per uno dei tentativi forse un po' più ambiziosi in cui mi sono spinto finora sul blog. Allora, oggi siamo insieme per una chiacchierata, per una simulazione che serve a fare l'esempio della costruzione di un ipotetico portafoglio a rendita, ma non semplice, quindi come lo fanno facilmente tanti consulenti utilizzando i soliti strumenti finanziari, ma simulando l'abbinamento di un investimento in real assets, in particolare in immobili fisici, con un investimento classico in titoli di natura azionaria o obbligazionaria. Allora, il concetto dell'abbinare real estate, ovvero le proprietà immobiliari reali con gli investimenti di natura finanziaria, ovviamente è ampiamente discusso, ampiamente utilizzato, anche perché se noi pensiamo proprio a logica dove sono il grosso dei soldi del mondo, possiamo pensare che questi sono nel debiti, in particolare nei debiti delle grandi paesi, quindi in prima di tutto il debito pubblico statunitense, ma poi quello europeo e poi quello di tantissimi altri paesi, pensiamo a livello di debito pubblico, ad esempio del Giappone, poi c'è il debito privato, le grandi corporation, le grandi aziende per prime, dopodiché il debito dei privati, c'è sicuramente la proprietà finanziaria, quindi gli investimenti in capitale di proprietà dei mezzi di produzione, quindi delle aziende che sono le azioni, ma moltissimo si trova anche in beni reali, tra questi beni reali ci sarà la gioielleria, ci saranno l'oro e quant'altro, ma sicuramente un ruolo predominante nel mondo dei beni reali sono nelle proprietà immobiliari, terreni, negozi, industrie, capannoni e soprattutto immobili residenziali, che sono quelli con cui il risparmiatore ha più dimestichezza, perché è molto più probabile che nella sua vita faccia l'orogito per acquistare la prima casa, la seconda casa, piuttosto che immobili, non so, negozi da investimento. Allora, andiamo su qualcosa di un po' più ardito, meno mappato dalla disciplina classica dell'asset allocation, anche se parlo di due importanti personaggi che ne hanno trattato, come ad esempio Ray Dalio, che per il hedge fund di cui si occupa, nel parlare del suo permanent portfolio, ha anche fatto delle simulazioni utilizzando come asset il real estate. David Svensson, nel portafoglio che gestisce per Yale University, quindi il famoso portafoglio UndoWid, va a inserire fino a un 20% di real estates, perché magari, esatto, hanno anche da gestire delle proprietà immobiliari. Tuttavia, io qui faccio l'esempio di una persona che vuole costruire questo portafoglio con un patrimonio di un milione di euro, lo prendo un po' largo per stare dentro a proporzioni anche non troppo sbilanciate, e voglia utilizzare circa un terzo del capitale iniziale per acquisire una posizione immobiliare, su cui applicheremo anche leva finanziaria, poiché date la dimensione del portafoglio e date le sue possibilità, ha senso anche utilizzare la leva finanziaria, e vediamo come io la contabilizzo, come la gestisco, e come è congrua rispetto a tutto il resto. Un terzo in azionario e un terzo in obbligazionario, quindi esclusi gli immobili il portafoglio sarebbe il classico bilanciato puro, metà azioni, metà obbligazioni. Tuttavia, inserendo un capitale immobiliare, quindi un investimento a lungo lunghissimo termine, e con una volatilità che magari non vedo, ma una volatilità del capitale piuttosto significativa, andiamo verso un livello di rischio piuttosto elevato, anche se la diversificazione è più profonda, perché non abbiamo solo una diversificazione tra tanti emittenti, ma abbiamo una diversificazione tra strumenti di natura profondamente diversa. L'azionario sarà soggetto al mercato delle azioni, l'obbligazionario al mercato dei tassi, al mercato dei rendimenti, all'inflazione, l'immobiliare interagisce in maniera completamente diversa, sia con l'andamento dei mercati e del ciclo economico, sia con l'andamento dell'inflazione o dei tassi di interesse, anche se delle correlazioni ci sono, perché gli immobili, quando i tassi sono alti, c'è più fatica a fare leva finanziaria, quindi il mercato può essere meno liquido. D'altra parte, in una fase di inflazione elevata, possono essere una forma difensiva di rifugio. E quindi, insomma, il mondo degli affitti, vedremo come io ipotizzerò due diversi immobili, con due locazioni di natura molto diversa, solitamente locazioni piuttosto reddivizie, ma molto classiche, che può realizzare qualunque risparmiatore, quindi è quello che un ipotetico consulente indipendente potrebbe consigliare di mettere a portafoglio a un risparmiatore con un patrimonio simile, proprio a livello di puro investimento, quindi non perché compro la casa, un giorno magari serve a un figlio, una cosa di questo tipo, che sono i classici ragionamenti familiari. In generale, rispetto alle classiche, l'asset allocation è un asset allocation sbilanciata. Un terzo immobile, un terzo azioni, un terzo obbligazioni, non lo troverete sui libri di finanza, insomma, però è un asset allocation estremamente verosimile, cioè nel portafoglio, io alla fine utilizzerò Finals Drip per fare una mappatura completa del portafoglio, visto che ormai consente di mettere tutto, anche i conti correnti e quant'altro, faccio vedere come quello che viene fuori è qualcosa che ci ricorda molto il portafoglio della nostra famiglia, perché avremo un 30-40% nella proprietà immobiliare, ci sarà il mutuo, ci sarà il patrimonio di azioni, di obbligazioni, di due di Stato, e quindi è qualcosa di molto verosimile, anche se non è molto studiata come tipologia di asset allocation. Cosa sarebbe accaduto utilizzando real estate? Qui parliamo del real estate finanziario, che è qualcosa di abissalmente diverso, anche se in qualche modo complementare alla proprietà di un immobile fisico in un luogo specifico, io ad esempio farò l'esempio di Roma, semplicemente perché l'indagine di mercato su dati abbastanza reali e verosimili nella gestione di questi investimenti per me è stata più semplice a Roma che in altre parti d'Italia, e poi perché è un buon compromesso. Vediamo che cosa sarebbe successo se avessi investito in real estate, quindi avessi inserito il global real estate per un terzo insieme all'azionario mondiale, insieme ai titoli di Stato, ovviamente qui con copertura valutaria, altrimenti il peso del dollaro sbilancia tutto, mondiali. Allora, avrei avuto dagli anni 90 una crescita media annua composta, quindi capitalizzazione composta, che è molto di più della crescita secca, del 6,2%. Lontana dalla crescita dell'azionario americano che nello stesso periodo sfiora, supera il 9% l'anno, tuttavia una crescita in realtà piuttosto significativa, grazie all'effetto di capitalizzazione composta, perché portava il nostro capitale dai 10.000 euro dei primi anni 90, quando insomma io ero ragazzino, fino agli quasi 80.000 euro, 70.000 euro, del post-crisi del 2022. crisi del 2022 che in questo caso sia sul real estate finanziario che sulla parte obbligazionaria ha impattato in maniera selvaggia, mentre ad esempio sul prezzo degli immobili a Roma non ha impattato in quel modo. Vedremo poi alla fine, quando il ricarico sul finance drip, che fa automaticamente, prende i dati delle quotazioni immobiliari dalla database delle Camere di Commero, dell'agenzia dell'entrata, dell'agenzia del territorio, fa vedere come in realtà nel 2022 il prezzo a Roma è anche leggermente cresciuto, insomma, quindi è qualcosa di diverso rispetto all'azionario delle società cosiddette rates, real estate investment trust, che possiedono immobili. Però vediamo che comunque insomma una crescita c'è stata, è stata forte, e real estate è il classico asset che nel lungo periodo è stato assolutamente paragonabile come crescita con l'azionario puro. Allora, partiamo da un asset allocation che io ritengo sensata per questa divisione, un terzo, un terzo, un terzo. Allora, come l'ho creata? 33% immobili fisici, perché è uno dei postulati base del mio portafoglio, 10% azionario europeo, 11% azionario Nord America. Allora, anche se l'azionario Nord America pesa un po' di più il rischio valutario, è un azionario che storicamente, almeno dal dopoguerra, alla seconda guerra mondiale, a oggi ha avuto delle crescite più forti dell'Europa, quindi è molto interessante approcciarci, visto che questo è un portafoglio di lungo termine, l'effetto della valuta, il ciclo valutario, posso affrontarlo con un'ottica di prospettiva di lungo, quindi tendenzialmente tenere anche un pochino più di azionare Nord America è congruo anche per l'investitore europeo. 6% azionario dei paesi emergenti, per diversificare assolutamente, 6% nei cosiddetti paesi sviluppati dell'area dall'altra parte del mondo, del Pacifico, tra cui c'è il Giappone, ma ci sono anche grandi economie sviluppate e grandi borse, che ormai hanno caratteri molto simili a quelli dei paesi occidentali. 11% in titoli di Stato, in un portafoglio di lunghissimo termine il titolo di Stato diventa meno interessante, perché appunto subisce l'effetto inflazione più di altre obbligazioni, 5% in obbligazioni societarie, che solitamente a parità di merito creditizio dovrebbero nel lungo termine dover pagare un costo per il loro finanziamento superiore al titolo di Stato potrebbe essere un po' più reddizia nel lungo termine, non in tutti i momenti, in questo momento abbastanza poco. 10% in obbligazioni high yield, poiché un high yield ben diversificato nel lungo termine crea una capitalizzazione composta più forte e riesce anche a compensare le fasi in cui ci sono parecchi default, in cui va in crisi. 8% in titoli di Stato, pesi emergenti, poiché un po' meno di quelli di titoli di Stato, pesi sviluppati, però significativi, perché i titoli di Stato, pesi emergenti tendenzialmente pagano un prezzo maggiore per finanziarsi, quindi in un orizzonte temporale lungo riescono a darmi una capitalizzazione più alta. L'ipotesi è partire con un cash di un milione di euro che poi tramite una leva finanziaria cosa a cui si prestano gli immobili verrà un pochino ampliato. Allora, partiamo con la parte di azionario. Io qui ho aperto il tool della selezione con filtri azionario del sito Morningstar. Allora, utilizzare con estrema accortezza, questa è la magia nera del trader, cioè è molto facile farsi prendere d'euforia utilizzando questi strumenti nel caso avete i miei recapiti che stanno anche sul blog, se volete un'opinione in consiglio non è che la faccio pagare, quindi mi chiedete informazioni, poiché facendo questi filtri escono fuori dei bei panieri di singole azioni, però si deve capire che cosa si sta facendo, ok? Cosa succede quando metto un filtro, che tipo di selezione ho fatto su un indice. Allora, la piattaforma di Morningstar, vediamo qui l'indirizzo che c'è sopra, consente di andare a fare un paniere di azioni personalizzato, cosiddetto personal indexing, cioè io creo il mio indice che su un mercato deve obbedire ad alcuni criteri. Allora, io ho scelto due mercati per utilizzare singole azioni, perché nel portafoglio ci voglio mettere tutto, ci voglio mettere singole azioni, singoli titoli, singoli ETF, alla fine pure immobili fisici. Ho utilizzato due mercati, quali Regno Unito e Italia. Perché? Perché il Regno Unito ha un accordo con l'Italia che non paga la doppia tassazione di dividendi. Se io inserissi singole azioni tedesche, pagherebbero, dividendo in Germania, dividendo in Italia, sui dividendi avrei inefficienza fiscale per riscometterli all'interno degli ETF. Invece il Regno Unito mi paga soltanto il 26%, quindi anche il mio dividendo mi fa cash, mi fa rendita, come se fosse un titolo italiano. E Italia ha lo stesso discorso. Vado a fare una selezione, voglio creare il mio paniere, prima sull'Italia, Borsa Italiana, poi su Borsa Regno Unito. Allora, voglio mettere alcuni paletti. Allora, uno dei paletti è il dividend yield, quindi inizio prima a cercare quelle con dividend yield, lo vediamo qui al centro della mia schermata, maggiore dell'8%, quindi pagano dividendi sicuro dell'8%, poi quando ho scelto un po' di aziende con quei criteri, cercherò anche quelle al 6%, anche con 4-6%, però tra queste vado a fare anche dei filtri sul price earning ratio, quindi il rapporto tra il perso di mercato e la redditività dell'azienda. Perché? Perché il rischio, altrimenti, di andare a prendere delle aziende che hanno un dividendo elevato, però hanno pochi utili, magari si sono finanziati per mantenere lo stesso dividendo. Poi vado a scegliere anche delle aziende che è vero che hanno avuto un price earning ratio di questo tipo, quindi moderato, per cui non sono neanche aziende troppo sovrastimate come prezzo rispetto al mercato, no? Nvidia adesso ha fatto un boom del 39%, nell'ultimo mese e mezzo ha un prezzo molto alto rispetto alle entrate, ma vado anche a cercare aziende che comunque negli ultimi 3 anni hanno avuto una crescita dei ricavi, non una crescita dei ricavi bassa, non una crescita dei ricavi eccessiva, perché se hanno avuto una crescita dei ricavi eccessiva potrebbe essere un momento di boom, cioè io mi accodo alle aziende che hanno avuto quei 2-3 anni di grande successo, poi magari non è più così negli anni precedenti, crescita dei ricavi bassa, attenzione perché il dividendo poi me l'hanno pagato, ok. Infine, delle aziende piuttosto con una certa redditività per l'investitore, quindi abbia avuto un ritorno sulle equiti tra 0 e 20, quindi ho messo questo filtro e questo mi ha aiutato a creare un portafoglietto, io non voglio metterne tantissime singole azioni, però voglio delle azioni da dividendo, le voglio diversificare tra aziende grandi, aziende medie, aziende piccole, così se qualcuna salta però io ho diversificato, voglio andare su un decino di titoli di cui 4 italiani e 6 del Regno Unito, consideriamo che la borsa del Regno Unito è molto più grande rispetto a quella italiana, non ha senso starmi troppo a concentrare solamente sul mercato italiano, tanto poi ci abbiterò anche gli ETF, non è che questo è tutto il mio portafoglio, questo è solo un piccolo paniere che rappresenta un 5% del capitale fatto da singoli titoli, mi serve anche a livello di efficienza fiscale nel lungo termine, qualcuno di questi magari andrà molto sopra, poi vedremo su Firenze Drip perché io faccio partire la simulazione del 2019, vediamo che infatti c'è stata qualche azienda che è andata molto sopra, questi non li ho scelti in base alla performance, io ho fatto prima il portafoglio qui e poi dopo da Firenze Drip mi sono accorto che effettivamente qualcuno ha avuto quella crescita. Usando questi filtri è venuto fuori questo, allora sull'Italia ho preso BFF Bank, una banca di finanza e factoring small cap piccola, poi è uscito fuori Eni, un colosso energetico e petrolifero dai buoni dividendi con quella crescita dei ricavi con quel ritorno in equiti quindi insomma con quei tipi di criteri che ho deciso di selezionare è uscita fuori la IREN che è una società di utility di utenze diversificate gas e luce che è una mid cap quindi una via di mezzo media dimensione è uscita fuori un'altra piccola azienda però prettamente industriale la FNM o FNM perché è italiana che fa gestione e manutenzione del settore dei trasporti in particolare ferroviario e che ha quei criteri quindi non è troppo costosa paga dividendi alti ha avuto una crescita ha avuto un ritorno sull'equity abbastanza buono nel Regno Unito ho selezionato tra le large cap quindi i colossi Lloyds grande gruppo bancario assicurativo Barclays grandissima banca del Regno Unito Kingfisher è un grande società di cosiddetti beni difensivi perché sono articoli per la casa marchi tipo Castorama per capire poi ci sono le aziende di medie dimensioni c'è l'EG Group Holding che è un grande gruppo assicurativo ho pure la polizia assicurativa con loro Vistry Group che è una società di costruzioni edili e infine una piccola azienda small cap che è un'azienda di materie prime tutte con questi crisi teri di dividendo interessante mi fanno la mia piccola rendita mi fanno il mio piccolo subportafoglio con personal indexing quindi indice personalizzato e sono anche molto diversificate perché ci sono le aziende grandi aziende medie aziende piccole e tanti settori certo c'è una certa predilezione per la finanza vediamo diverse banche assicurativo però c'è pure energia materie prime utilities che poi sono industriale sono quei classici settori che hanno queste caratteristiche un po' value non troppo favoriti dall'apprezzatura di mercato dividendo interessante una certa solidità di bilancio una crescita moderata non eccessiva ok vado a completare il portafoglio azionario vado ad aggiungere a questi asset un titolo che con grande facilità mi diversifica perché li ho concentrato qui voglio diversificare quindi ci metto un 20% di Vanguard All World High Dividend a distribuzione questo è un portafoglio a rendita il Vanguard All World High Dividend a 47% Nord America 26% Europa 15% Pacifico 12% tra paesi emergenti Medio Oriente e resto del mondo ok quindi è un buon abbinamento a quel paniere che mi spostava un po' sull'Europa quindi ho 5% vedete aziende e azioni Europa e 20% ho messo l'All World infine lo completo con altri etf quindi il portafoglio completo da 330.000 euro in azionario viene fuori 200.000 Vanguard All World High Dividend cosa però escluso mettendo questo All World High Dividend più il mio paniere di singole aziende tutta la parte growth quindi tutti i tecnologici tutte le mega cap americane sono andate fuori perché non sono né nella parte alto dividendo della metà del paniere mondiale né in quel paniere mio di singole azioni Regno Unito Italia quindi vado ad aggiungere un 14.000 del Vanguard Nord America a distribuzione dove invece sono protagonisti 20.000 di HSBC Pacific senza il Giappone più 10.000 di Giappone 225 che sarebbero l'indice Nikkei 225 il principale indice della borsa giapponese 36.000 euro di HSBC MCI Emerging Markets che è un indice sui paesi emergenti piuttosto diversificato e globale e questo mi crea i miei 330.000 euro piuttosto omnicomprensivi spostati su dividendo e value perché è un portafoglio a rendita però dentro la diversificazione è molto forte è molto interessante andiamo poi sulle obbligazioni come dicevo anche sulle obbligazioni vado ad abbinare un 11% di singole obbligazioni ho scelto i titoli di stato per non dover avere eccessivo rischio contro parte e l'utilizzo di etf per tutto il resto quindi la parte societaria la parte dei paesi emergenti la parte delle obbligazioni ad alto rischio diciamo la parte dove il rischio contro parte mi diventa pericoloso nel lungo termine la vado a diversificare con etf i titoli di stato visto che sono in un momento in cui riesco a studiarmi la rendita e studiarmi la cetola che mi arriva ho scelto di prendermi sul mercato queste sono quotazioni di qualche giorno fa non è la prima volta che provo a fare questo video quindi sono qualsiasi qualche giorno fa ma non dovrebbero essere cambiate molto allora ho preso 10.000 del Bund tedesco al 2,5% durata 21 anni quasi alla pari 15.000 di titolo di stato austriaco al 3,15% che sta alla pari durata sempre 21 anni 20.000 titolo di stato francese al 3,25% durata 23 anni sempre alla pari e poi ho preso 21.000 di sovranazionale europeo Europa 3,375 durata 20 anni che sta circa alla pari e queste sono obbligazioni high grade obbligazioni classe A o più tra cui ci sono delle triple A come il Bund tedesco e l'Europa ottima qualità l'altra parte dell'obbligazionario è sempre diversificata e inizio a mettere le obbligazioni con la B le obbligazioni non di bassa perché non sono obbligazioni speculative non sono considerate dall'agenzia di redditing obbligazioni speculative ancora ma sono obbligazioni triple A B ok tra queste metto la nostra Italia che sul BTP 20 anni si prende alla pari un 4,45% poi ho messo per accorciare un po' la duration non mettere solo titoli ventennali 8000 di Portogallo 2,875% più basso il rendimento però dura solo 3 anni quindi poi tra 3 anni avrò un po' di liquidità da riutilizzare e un appena decennale della Spagna che si prende sotto la pari al 3,15% notiamo che mi sono riuscito a scegliere la rendita poiché la rendita pur avendoci messo bunde tedesche di alta qualità sta praticamente al 3% buono ok allora le obbligazioni il paniere che ho fatto mio stava sopra al 4% scusate le azioni le azioni UK e Italia stavano sopra al 4% le obbligazioni di tutto di Stato stanno al 3% buono il Vanguard All World attualmente è salito il rendimento ci avviciniamo in area quasi 3% no staremo intorno al 3% le altre sono più variabili nel tempo è inutile stare a guardare quanto è oggi perché tra un anno magari saranno diverse però mediamente abbiamo un portafoglio vedete con una cedola che arriva da rendita abbastanza interessante andiamo poi a diversificare utilizzando gli ETF 10% metto le obbligazioni a yield che adesso hanno un rendimento molto superiore e 50 quindi 100.000 euro negli share global a yield corporate bond questo è un globale quindi c'è rischio valuta ma non così tanta rischio valuta perché le a yield hanno parecchie emissioni europee anche di aziende a yield globali che emettono titoli in euro quindi c'è una buona quantità di euro l'obbligazionario dei paesi emergenti invece lo diversifico per rischio valuta 40.000 metto vent Vanguard USD emerging market bond a distribuzione che sono le obbligazioni dei paesi emergenti messi in dollari e l'altra metà uso gli share GPMorgan emerging market bond con copertura valutaria che sono sempre le obbligazioni dei paesi emergenti messi in dollari ma con la copertura valutaria nei confronti dell'euro infine per le obbligazioni societarie ma sono solo 5.000 quindi sono società grandi aziende buona qualità finanziaria a distribuzioni e prendo un ottimo Vanguard global corporate bond quindi obbligazioni di tutto il mondo adesso le corporate dell'area dollaro hanno una cetola più alta con copertura valutaria perché visto che ci troviamo in questa fase in cui loro hanno cetole molto interessanti secondo me il costo della copertura se lo coprono liberamente passiamo alla parte immobili questa è la parte più azzardata più complicata ma molto interessante in cui cerco di fare un po' di analisi allora ho ipotizzato di utilizzare il mio capitale 330.000 utilizzando anche la leva finanziaria che si applica bene sugli immobili per prendere due immobili da investimento con due tipologie di investimento solitamente un po' più redditizie del classico affitto retail uno è l'affitto agli studenti in zona universitaria e un altro sono gli affitti turistici entrambi in realtà presenti a Roma anche se non rappresenta il mercato milanese che magari è molto più forte Roma rendiamoci conto che c'è tra i 220.000 e i 240.000 iscritti alle 19 università tra pubbliche e private presenti nella città metropolitana di Roma quindi in realtà è una città universitaria anche se uno non ci pensa oltretutto è meta turistica che lasciamo stare insomma quindi entrambi i mercati sono abbastanza buoni cerco però di andare in maniera prudenziale a fare queste stime e cercare di fare qualcosa di realistico quindi non prendo il solito boob di così ho fatto l'affittacamera in centro dove carico di turisti faccio i botti quella è un'attività molto più imprenditoriale parlo qualcosa che può essere più da risparmiatore immobile 1 seconda università di Roma dove i prezzi degli immobili sono molto più bassi rispetto al centro quadrilogale questo ho preso un annuncio di immobiliare punto it ovviamente ho tolto i dati sensibili per fare qualcosa di verosibile superficie 120 metri quadri 175 mila euro prezzo di mercato acquisto a contanti quindi qui non mi finanzio tasse cedolare secca perché per me è una seconda casa spese di ingresso nell'investimento quindi soldi persi che io aggiungo al capitale iniziale 3.000 circa di costi notarili 7.000 per l'agenzia immobiliare difficile evitarlo 20.000 tra arredamento pulizia e una ristrutturazione leggera ci si spendono 9.000 di tasse evocatastali seconda casa 320 euro per registrare il contratto di erogazione agli studenti va considerato anche quello le spese ricorrenti visto che è una casa immobiliata a studenti è verosimile parlare di una parte del condominio non tutto quindi ipotizzo 500 euro all'anno 1.000 per un fondo spese di manutenzione straordinaria che capita meglio metterle da parte e 800 euro di imo perché un immobile da 175.000 a Tor Vergata le votazioni non sono altissime anche se a seconda casa si può trovare riuscire a pagare così è un po' poco però forse si può riuscire a pagare canone d'affitto annuo allora è abbastanza verosimile in quella zona con tre studenti riuscire 450 euro a camera grosso modo riuscire ad avere un 16.200 euro di affitto secondo caso più complicato più avanzato ok zona 5 città quindi non lontano da quell'altra in questo è più verosimile uno perché io posso riuscire a accedere più facilmente ai dettagli sulla zona due perché è anche verosimile che una persona non abbia uno Roma Sud uno Roma Nord che si fa prima andare in Campania che attraversare tutta la città metropolitania qui parliamo di un trilogale su una via consolare la Tuscolana dove ci sono tutte quante le fermate della metropolitana quindi è periferica però è pieno di fermate della metro uno scende e arriva facilmente al centro è una zona non di prima scelta ma è una seconda scelta per l'ipotetico turista che vuole una casa un po' più ampia tutta per sé a disposizione non vuole spendere una cifra folle come stare a piazza di Spagna ok allora il trilogale 95 metri quadri un prezzo assolutamente adeguato 289 mila euro l'acquisto viene fatto solo 20% con il mio cash i contanti e 80% prende un mutuo a 25 anni che oggi è assolutamente velo simile con una seconda casa prenderlo a un 4% tasso fisso quindi vedete io ho preso tutti i possibili anche svantaggi cioè il fatto che adesso il mutuo costa di più e quant'altro tasse cedolare secca del 21% sempre spese di ingresso nell'investimento quindi le spese sono molto più significative perché fare avere un immobile adibito a turismo ha senso anche spendere un po' per ristrutturarlo e per ottenere le massime camere e quant'altro allora costi notarili ho stimato 5.000 11.000 per l'agenzia immobiliare quasi 50.000 ho fatto per fare poi cifra d'onda arredamento e ristrutturazione 11.000 di ipocatastale 1.000 euro sull'assicurazione sul mutuo perché l'incendio scoppio è obbligatorio e 1.000 euro per le spese di istruttoria del mutuo spese ricorrenti allora la leva finanziaria io qui la metto in spese ricorrenti questo mi uccide la rendita finale poiché il mutuo lo metto tra le uscite tuttavia attenzione perché è vero che la rendita secca pulita al netto mutuo è più bassa ma col mutuo io sto anche creando capitale ok allora qui ho 1.600 euro l'anno di condominio quindi 1.500 fondo spese manutenzione straordinarie 6.000 utenze bollette perché se lo affitto turistico tutto il me tutti i mesi mettere da parte 500 euro stimato tra utenze bollette aria condizionata oggi come oggi ha senso 5.000 servizi di pulizia pagata biancheria stirata consegnata spese di gestione se ho bisogno che qualcuno mi aiuti 14.004 di mutuo 1.500 di imu meno di quello è difficile per una casa di questo tipo allora gli utili molto realistici per affitti brevi turistici in quella zona sono circa 40.000 euro quindi come vedete tra utili spese ricorrenti e cetorale secca non è un granché però attenzione perché mi sto pagando il capitale quindi il mutuo quindi la sintesi degli immobili viene fuori questo il prezzo acquisto speso è di 232.800 euro su questo simulo di aver ottenuto 20.000 euro di sconto sull'acquisto dell'Agenzia Immobiliaria c'è anche per fare un po' di intermediazione il mutuo 220.000 euro che sono 1.220 euro al mese i costi d'ingresso che vengono persi a carico mio tra ristrutturazioni notaio eccetera eccetera 117.200 le spese ricorrenti incluso il mutuo sono di 32.300 le spese sì spese 2003 sull'immobile con gli studenti 30.000 sull'immobile gestito per gli affitti turistici le entrate stimate lordi sono di 56.200 pago 11.800 di cetolare senca il netto quindi entrate meno spese meno tasse è di 12.100 euro come vedete sono riuscito ad ottenere sul mio capitale fisso investito tirato fuori dalle tasche di 330.000 il 3,67% quindi ho creato un portafoglio dove quel 33% di obbligazioni ha circa questo rendimento il 33% di azioni perché ricordiamo più reddilizio sul personal index che mi sono fatto un po' più reddilizio sul vanguard high dividend un po' meno reddilizio come distribuzione sulla parte non so del pacifico dei paesi emergenti ma lì dipende dall'andamento anche dei mercati anche quello ha un rendimento congruo quindi 3,67% netto qui sono già pagate le tasse sulle azioni e sulle obbligazioni c'è da pagare 12.50 sui titoli di Stato 26% su obbligazioni societarie 26% sui dividendi è un po' di meno quindi qui è un pochino più di cedola però ho qualcosa di assolutamente congruo ok qual è la forza dell'abbinamento dei due immobili reali poi voi mi dite sì vabbè però gli affitti turistici è vero 40.000 euro in un anno però è pure vero che se 30 sono di spese sì ma 30 sono di spese ma la metà è mutuo quindi sto creando capitale poi lo vediamo su Finance Drip che il mio capitale iniziale è improvvisamente salito da un milione perché c'è anche la parte della proprietà immobiliare pagata con mutuo c'è un discorso fiscale allora se fosse prima casa il mutuo posso portare in detrazione gli interessi tutte le ristrutturazioni immobiliari che io ho fatto avete visto i costi d'ingresso sono almeno al 50% ma anche di più se ho fatto adesso ci sono bonus sugli infissi e quant'altro portabili in deduzione sul mio reddito quindi 3.444 euro l'anno io le recupererei per 10 anni almeno sulle mie tasse se io non avessi un IRPEF capiente perché magari non lavoro e vivo solo di questa rendita immobiliare che comunque è il 3.5% netto su un milione su 3.000 euro al mese insomma si vive bene se io non lavoro e vivessi su questa ipotetica rendita da portafoglio potrei non usare la cedulare secca ma pagare l'IRPEF allora su 56.200 euro di entrate IRPEF le tasse sono di più sono 17.2 ma detraendole con la detutazione fiscale scendono a 8.750 euro di tasse quindi ci sono tutta una serie di vantaggi nell'avere anche leva leva finanziaria e ristrutturazioni e quant'altro poi tantissime altre cose sono deducibili a seconda se la prima casa non la seconda casa ci sono bonus sui mobili sul notaio sull'agenzia immobiliare ci sono varie cose da poter recuperare ora ho provato a metterli dentro Final Strip e andiamo a vedere che cosa uscire da fuori allora questo è il portafoglio lo vedete un po' schiacciato perché di mezzo c'è la mia faccia però tanto lo muovo quindi non è un grande problema questo è il mio portafoglio a rendita qui mi hanno creato un'utenza demo gentilmente questo portafoglio risulta dalla loro analisi adatto ai portafogli con un orizzonte temporale medio-lungo secondo me considerando che pagate 117.000 euro dei costi d'entrata e avete al netto tasso e tutto 12.000 euro di rendita solo sugli immobili meno di 10 anni non dovete neanche pensare di toccarla questa impostazione del portafoglio se non movimentare qualcosa tra i tf obbligazioni di ruistato quando scade qualcosa quando può cambiare qualche cosa su quello un ipotetico consulente può aiutare è adatto a tutti gli investitori con un orizzonte temporale medio-lungo e quelli che all'interno di quell'orizzonte temporale vogliono assumersi un rischio consistente abbiamo due terzi assimilabili al capitale di rischio i resto titoli di stato abbiamo visto che è successo nel 2022 a quei titoli di stato qui vediamo tutto quanto il nostro portafoglio di titoli ci sono gli etf ci sono i titoli di stato le obbligazioni come il portogallo l'unione europea ma ci sono anche le singole azioni vedete no Pan-African Resources IREN FNM l'azionario qui lo dà il 52% perché vede la crescita a partire dal 2019 e qui vediamo tutta quanta la distribuzione delle entrate questa sulla destra quindi le dovreste vedere ogni periodo ci sono cetole 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 quindi questa ipotetica persona che si è costruita un portafoglio così ha un alto tasso di liquidità perché c'è una rendita costante proveniente da quei 600.000 rotti investiti in maniera finanziaria diversificata e piuttosto significativa e poi si deve occupare della parte immobiliare ho un altro discorso nella parte immobiliare molti costi sono abbattibili cioè la stima che gli ho fatto è completamente volatile una persona che ci sa fare soprattutto sugli affitti turistici potrebbe fare il 50% in più in una fase di crisi come il 2020 magari non ha guadagnato quasi nulla molti dei costi di gestione e pulizia sono ovviamente ottimizzabili e quant'altro ora non faccio altri anche ragionamenti fiscali come vedete qui c'è un flusso costante ogni mese ci sono più dividendi più cetole che vengono ricevuti solamente a maggio 1, 2, 3, 4, 5, 6 accrediti da 230, 650 280 175 216 35 insomma anche poi quelli grossi quando arriva il pagamento della yield che paga 2300 euro quindi il flusso di cassa di questo portafoglio è piuttosto significativo andiamo a vedere sugli immobili poi che hanno messo di recente stanno implementando di recente la gestione immobiliare io ho i miei due immobili allora l'affitto turistico sulla Tuscolana se io vado a vedere all'interno ha in realtà un rendimento basso questo è il prezzo dell'immobile io ho simulato l'acquisto nel 2022 il prezzo dell'immobile è aumentato è aumentato perché lui legge automaticamente avendogli dato come mappatura Roma mercato romano tipologia di affitto affitto breve aliquota cetolare secca lui fa tutti i conti ha visto che comunque dal 2022 c'è stato un po' di aumento non enorme però il capitale è passato da 289.000 a 292.000 ipotizzato il rendimento visto che dentro ci ho caricato il mutuo è stato basso sul capitale 0,554 nella prima metà del 2022 0,548 nella seconda metà perché è salito il valore ok l'altro immobile è l'affitto turistico e l'affitto agli studenti ha un rendimento maggiore perché lì non ho messo il mutuo tra i costi quindi vediamo che il rendimento è più reale cioè il rendimento parliamo sempre di netto è il 6,309% nel 2021 qua ho simulato l'acquisto nel 2021 6,262% quando poi è salito il prezzo sale ancora il prezzo 6,223% sale ancora il prezzo 6,158% infine se vado nel centro del monitoraggio riesco a vedere il mio patrimonio il patrimonio è più alto perché ho usato una leva finanziaria e ho messo nei costi di gestione quindi abbattendo il rendimento il mutuo che andrò a pagare il capitale immobiliare invece che un terzo viene fuori il 41% perché c'è anche la parte del mutuo e poi ci sono azioni e obbligazioni e vediamo qual è stato l'andamento no, no qual è stato l'andamento qual è l'andamento stimato qui fa tutta una simulazione di una proiezione a 30 anni del capitale se continuasse con i rendimenti attuali ok io spero che sia stato interessante parlare di qualcosa di un po' diverso da quello che si vede anche magari sui classici canali youtube e vedere cosa è verosimile riuscire a fare con una rendita di quel tipo laddò ci sia un obiettivo così di avere quel 3-4% di rendimento celolare in maniera estremamente diversificata per quando mi viene in mente qualche nuova iniziativa sfiziosa ci risentiremo senz'altro a presto a presto